Amici appassionati di tecnologia, oggi parliamo di tablet. Sono arrivati infatti i nuovi tablet di Doggy, quindi li vedrete presto sul mercato e allora oggi si inizia a spacchettarli perché il tempo è poco, per provare un tablet ovviamente servono alcuni giorni e allora si parte con il modello più economico, il T10S. E allora, guardate è ancora tutto chiuso, lo andiamo a spacchettare insieme. Ah dimenticavo, c'è anche questa, la Doggy Stilus Pen. Ed eccolo qua, il Doggy T10S, nuovo tablet. Subito ha riportato 11 giga di RAM, in realtà sono 6 ma sono 5 virtualmente espandibili. Confezione molto carina con l'immagine di quello che andremo a spacchettare. Andiamo ad incidere il pacco insieme, tutto insieme a voi per la prima volta. Ancora non ho visto praticamente niente, sono rientrato da pochissimo dalle ferie e allora andiamo a vedere cosa troviamo. Cartoncino che protegge il tablet dagli urti quando viene trasportato dal corriere e un bel po' di robetta qua da usare. Cavo, cavo di ricarica USB-C. Manuale d'uso, eccolo qua. Una spillettina per estrarre il vano perché abbiamo la possibilità di dual sim 4G oppure nano più espansione di memoria. E poi caricatore griffato Doggy. Dovrebbe essere un caricatore semplice, quindi 2A 10W. Abbiamo anche qua lo spazio per il pennino. Pennino che va comprato a parte e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, poi lo andiamo ad aprire insieme. Andiamo però a vedere adesso il tablet. Quindi qua nella confezione di vendita non abbiamo altro. Apprezzo il fatto che ci sia una pellicola già applicata. E andiamo a rimuovere la velina. Quindi andiamo a lasciare applicata la pellicola che è in dotazione. E adesso andiamo a vedere un po' questo tablet. Un tablet che è rettangolare, quindi un rapporto 16 decimi. Andiamo a vedere l'accensione che è posta qua. Lo vado per l'appunto ad accendere. Carrellino doppia sim sul lato. Dall'altra parte abbiamo il jack audio posizionato qua quasi al vertice per inserire gli auricolari. Accensione, volume, una porta di ricarica e ovviamente griglia da cui esce l'audio. Sul posteriore ragazzi una bella scocca. Dovrebbe essere in plastica. Comunque è opacizzata. Anche al tocco sembra bella spessa e solida. E poi la fotocamera. Sulle specifiche è una fotocamera ad 8 megapixel. Devo capire se l'altra è finta oppure se è una secondaria che va a creare la profondità. Andiamo a vedere anche il tablet che ha dei bei cornicioni. La pellicola preapplicata l'abbiamo vista e la selfie cam è da 5 megapixel. Abbastanza pesante ragazzi. 563 grammi. Ed eccolo qua che si è avviato il Doggy T10S. Ve lo faccio vedere. Primi momenti proprio insieme a voi. Non ho ancora studiato niente. Cancella tutto e andiamo a vedere anche il menu messo in questo modo. Ve lo posso anche girare così. Vediamo se è più carino e più comodo da vedere. Nella sezione software mi dice che il sistema è aggiornato. E questo è quello che troviamo. Ovvero Android 13 con le patch di sicurezza del 5 di giugno 2023. Eccolo qua. Quindi troviamo proprio Android 13 a bordo di questo tablet. È un tablettone da 10.1 pollici. Vi do un po' di informazioni. 6600 mAh di batteria. Ovviamente ci sono i tastini a schermo. Sono un po' troppo vicini qua alle icone a mio avviso. Ma comunque forse graficamente un lavoretto fatto meglio forse ci poteva stare. Processore Unisoc T606 Octa-Core. 6 giga di RAM che possono essere potenziati. Se riusciamo a potenziare la RAM. Sì andiamo a fare l'estensione di memoria. Aggiungiamo 5 giga. E ovviamente perché siano attivi dobbiamo riavviare il tablet. Andiamo a cercare anche le fotocamere. O meglio la fotocamera posteriore. Nella sezione altro della fotocamera troviamo la modalità notte. Bene. E poi varie modalità. Fra cui anche la registrazione dei video. Dai primi momenti col tablet vi posso dire che la vibrazione è zanzarosa. Quindi il motorino lavora in maniera molto molto forte. Sentirete un bel contraccolpo tipico magari dei telefoni tablet cinesoni. E vi faccio vedere magari nella sezione display anche il tema scuro. A livello di interfaccia non è che ci sia un lavoro di personalizzazione eccessiva. Ovviamente con il tema scuro si riesce a percepire quanto questo display non sia un AMOLED. Guardate lo stacco fra cornici e display. Andiamo ad aprire anche la Stilus Pen che ve lo dico subito costa circa 20 euro. Va acquistata a parte. Non la troverete insieme al tablet. Questo è quello che troviamo nella confezione. Vi ripeto sto guardando per la prima volta tutto con voi. Un piccolo minuscolo manuale di istruzioni. Oltre al cavetto per ricaricare la penna. La penna che non pesa più di tanto. La ricarica della penna avviene qua in alto. Vedete? Collegherete il cavetto micro USB e con questo tappino andrete poi a richiudere. E adesso andiamo a provare la penna. Come potete notare funziona. E a dire che la penna è accesa è questo LED che si illumina di azzurro. Non devo fare alcuna pressione. E ad esempio posso andare a cercare un indirizzo. Quindi vabbè utilizziamolo senza un account. Andiamo su continua, consenti. E poi da qui possiamo andare a cercare qualunque cosa. Quindi gazzetta ufficiale. E poi vedete siamo sul web a navigare tranquillamente. Al di là dell'usare la penna per toccare qua sulle varie icone. Cosa che potete fare tranquillamente con le dita. Magari vi sarà utile se dovete disegnare, modificare, andare a ritoccare qualcosa a livello grafico. Prendere appunti. Magari dovete installare un'applicazione dedicata proprio alle note. E quindi cari amici abbiamo visto lui. L'unboxing del T10S di Doggy. Presto, prestissimo andrò a spacchettare anche il T20S. Vi dico subito essere un tablet superiore. E quindi lui è un pochino peggio. Ma ho voluto iniziare proprio dal più economico. Andrò a provarlo. Andrò a provare anche la penna. Fatemi sapere a questo punto se voi fate uso di tablet. Se li ritenete ancora utili in questa società. E noi ci diamo appuntamento presto con la recensione di Doggy T10S. A like a palla ovviamente per sostenere il canale. Alla prossima, ciao!